L'Italia centrale è interessata da una circolazione depressionale in graduale spostamento verso sud-est. In Toscana, residuo e instabilità legata alla presenza di aria fredda in quota. Nelle prossime ore, pressione in generale aumenta. In Toscana, sabato 17 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso, con qualche nube in più nel pomeriggio, in particolare sui rilievi. Locali banchi di nebbia nei fondovalle, nelle pianure, nelle prime ore del mattino. Venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature in calo le minime, stazionari e le massime. Sul territorio provinciale, generalmente sereno poco nuvoloso. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 6, massima 18 gradi. A Castelnuovo Garfagnane, zone montane, minima 6, massima 17. A Via Regge, sul litorale, minima 11, massima 17 gradi. Domenica sereno, con temperature ancora inferiori alle medie stagionali.